Ieri, 28 febbraio 2019, i studenti del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli hanno ricevuto le bottiglie in alluminio donate dal presidente Consac, gestione idrica e SPA, avvocato Gennaro Maione, nell'ambito del progetto Liceo Plastic Free, che vede il circolo Liga Ambiente Stella Maris di Agropoli come partner della scuola suddetta. Il progetto vuole porre all'attenzione degli studenti alcune criticità della società attuale, l'impiego massiccio incontrollato della plastica, la quale ha tempi di decomposizione di circa 100 anni, con danni reversibili per la salute del pianeta e dell'uomo, e l'utilizzo smisurato dell'acqua in bottiglia, ritenuta erroneamente più affidabile di quella del rubinetto. Il progetto Liceo Plastic Free, raccogliendo l'invito del ministro Costa e del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Liano Alburni, Tommaso Pellegrino, prevede un percorso di rispetto per l'ambiente e un consumo più consapevole di acqua imbottigliata, Una fase di monitoraggio e registrazione sul consumo di bottiglie di plastica, in un orario scolastico per ciascun alunno, già effettuata, informazioni e ricerca sui danni ambientali causati da comportamenti rispettosi, simulazioni di politiche per arginare il fenomeno, un dibattito sull'economia circolare, Una visita di studenti al Polo Museale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Liano Alburni, realizzato presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità di Vallo della Lucania, che assisteranno poi al Consiglio Direttivo del Parco, ospite del presidente. Un'escursione di educazione ambientale, di pulizia, sentiero e monitoraggio, da Trentova di Agropoli al Sauco, Santa Maria di Castellabate, pubblicizzazione dei risultati del progetto. Si concretizza un primo importante risultato, che ha visto protagonisti, oltre agli studenti, il dirigente scolastico professor Fortunato Ricco e i professori Tiziana Liberti, Daniela Cuono, Marco Miracolo, Mauro Inverso e Marina Monfredonia. Occorre però che questa lodevole iniziativa non rimanga isolata, ma sia l'inizio di un percorso, che porti tutte le amministrazioni comunali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Liano Alburni, ad aderire al progetto Plastic Free, perché è possibile liberarci dalla plastica per evitare i rilevanti danni all'ambiente.